Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il Fatto. Oggi parliamo di un tema che purtroppo è sempre più di attualità, infatti delle ultime ore ce lo dimostrano nella nostra regione, ma è un argomento che va approfondito al di là della cronaca con gli esperti, perché gli esperti possono aiutarci a comprendere e soprattutto a prevenire. Abbiamo in studio il presidente del soccorso alpino e speleologico in questa regione, Daniele Perilli. Buonasera Perilli, benvenuto nei nostri studi. Appunto proprio perché sono temi sempre più di attualità, come ho detto, serve andare un po' oltre la notizia, andare un po' oltre la notizia e cercare di farsi delle domande e cercare delle risposte. La sicurezza in montagna, naturalmente, e la sicurezza anche per chi va semplicemente per boschi, non in quota, perché ci sono stati anche casi relativi a cercatori di funghi che purtroppo hanno avuto incidenti gravi o addirittura hanno perso la vita. Tanti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Innanzitutto perché in questo periodo, proprio in questo periodo, e soprattutto perché c'è questo trend di crescita degli incidenti in quota Perilli? Buongiorno, allora, il problema sta diventando sempre più grave, devo dire. Purtroppo negli ultimi anni gli incendi in montagna, piuttosto che diminuire, sono aumentati, ma quello che fa soprattutto pensare è che sono aumentati anche il numero dei morti, dei decessi. Adesso stiamo arrivando a un periodo che è quello più delicato di tutto l'anno, perché in montagna la notte è freddo, spesso è nevicato, anche nei giorni scorsi, quindi c'è un po' di neve, si forma uno strato che si chiama vetrato, in termini tecnico, cioè l'acqua che gela sui sassi, e se non c'è un occhio allenato non si vede, quindi basta poggiare il piede e si scivola via. I cambiamenti del tempo sono molto repentini, quindi anche se la mattina il tempo è bello, nel primo pomeriggio il tempo tendenzialmente tende a cambiare, si può incorrere anche in temporale o nevicata addirittura. Quindi quello che raccomando sempre è che in montagna bisogna andarci preparati, perché andare in montagna è sicuramente un'attività pericolosa, e il pericolo si abbassa, il rischio si abbassa con la preparazione, la formazione e anche il buonsenso, perché ognuno di noi dovrebbe conoscere i propri limiti, perché in montagna purtroppo, come abbiamo visto nell'ultimo mese, dove abbiamo avuto sei morti, in montagna si rischia la vita, quindi bisogna fare molta attenzione, perché il rischio sta dietro l'angolo, anche se indietro più facile può nascondere delle insidie che possono provocare la morte. La cosa che ci ha colpito molto, proprio nel leggere e nello scrivere queste notizie sempre dolorose, si riferisce al fatto che non si tratta in gran parte di persone sprovvedute, si tratta di persone che hanno un equipaggiamento adeguato, che hanno una preparazione e un'esperienza in quota. Ecco, quindi c'è da dedurre, ma questo ce lo dirà lei, se c'è un frattore anche di cambiamenti climatici, rispetto al quale, diciamo, anche la pratica dell'escursionismo in quota non è ancora sufficientemente aggiornata nella formazione. Sicuramente il meteo ha la sua influenza, perché tra l'altro il massiccio al Gran Sasso e la Maiella hanno due microclimi che per la vicinanza dei mari, quindi il cambiamento del tempo è molto più repentino. Quello che bisogna stare attenti è che quando si va in montagna le previsioni meteo sono fondamentali, non si può andare all'avventura, non si può partire a mezzogiorno per andare a fare un'escursione. Io quest'estate ho visto tanta gente che improvvisa in giro, ma tantissima, in montagna improvvisare è uguale pericolo. Quindi raccomando sempre, torno a ripetere, ormai penso che sia diventato monotono, a ripetere sempre le stesse cose. Perché noi, è chiaro, noi facciamo soccorso e purtroppo arriviamo quando il fatto è già accaduto, però bisogna fare tanta prevenzione. Io infatti dico sempre che anche gli enti ci dovrebbero aiutare in questo, a vario titolo, perché con l'informazione, aumentando sempre di più l'informazione, oltremmeno entrando di più nella casa delle persone, riusciamo a trasmettere questo messaggio di prudenza. In montagna sì, perché noi abbiamo nelle montagne un territorio che è splendido, tutti ci invigliano, però purtroppo bisogna andarci nel giusto modo. Ecco, stiamo vedendo i suoi uomini, Perilli, tutti gli operatori del soccorso alpino-ospedologico. Ecco, ci spiega anche, ovviamente, purtroppo per voi è aumentata la mole di lavoro da fronteggiare, soprattutto nei fini di settimana. Quali sono le problematiche delle vostre attività? Le problematiche abbiamo notato che c'è stato un periodo post-Covid, dove praticamente la frequentazione della montagna è aumentata in maniera esponenziale. E questo sarebbe un fatto positivo? Sì, è un fatto positivo, se tutti quanti però andassero nel giusto modo, perché chiaramente avere più persone in montagna vuol dire migliorare il turismo, anche a livello economico, chiaramente, perché gli operatori del luogo lavorano di più. Però, giustamente, come dicevo prima, questa massa di persone è un po' la legge dei grandi numeri, se vogliamo. Quindi a fine settimana abbiamo tantissima frequentazione, e in questa tantissima frequentazione c'è tanta gente che è improvvisa. E quando si improvvisa, purtroppo, poi accadono gli incidenti. Noi, nei giorni del 13, 14, 15 agosto, abbiamo fatto circa anche 10-15 interventi al giorno. Ma riuscite? Avete i mezzi e i uomini necessari? Avete bisogno di un supporto ulteriore da parte delle istituzioni? Avremmo bisogno di più uomini, però non è facile trovare persone preparate, perché per rendere nel soccorso al piospeologico bisogna superare i testi d'ingresso abbastanza impegnativi. E' chiaro che anche la Regione ci potrebbe dare un'ulteriore mano, perché giustamente, attualmente noi in Abruzzo siamo circa 160 uomini, che tutto l'anno ci formiamo costantemente, sempre per il discorso della sicurezza, perché anche noi ci dobbiamo addestrare per muoverci in sicurezza, altrimenti, come purtroppo è capitato sul territorio nazionale, anche qualcuno di noi ha perso la vita durante le operazioni di soccorso. E questa è la prima cosa a cui tengo, che non deve mai accadere, chiaramente. Per fare tutto questo è chiaro che abbiamo bisogno di risorse finanziarie, sia per la formazione, sia per i mezzi, e sia per l'acquisto di materiali, che è soggetto ad un'usura piuttosto veloce. Per quanto riguarda i mezzi in particolare, è molto lontano il giorno in cui sarà possibile condurre i soccorsi in quota anche in orari notturni, anche in condizioni climatiche più complesse, nebbia ed altro. Cioè ci sono delle strumentazioni in arrivo, degli studi che consentano anche di non sospendere le ricerche, come avviene in alcuni casi? Allora, attualmente noi i soccorsi li facciamo anche di notte, anche col tempo brutto. Chiaro che poi ci sono dei limiti oggettivi che non bisogna mai superare per il discorso della sicurezza. Per quanto riguarda l'elisoccorso, attualmente in Abruzzo si opera solo di giorno, però a breve, me lo auguro, a breve parliamo sempre di qualche anno ancora, chiaramente i tempi sono sempre molto dilatati, ci sarà anche, spero e me lo auguro, l'intervento dell'elisoccorso notturno, che è una cosa importante, molto fondamentale, perché ci aiuterebbe tanto, perché noi di notte praticamente partiamo a piedi dalle basi, invece avere un supporto di elicottero che comunque ti avvicina al target ci aiuta parecchio. Ecco, un altro tema di cui si è parlato per un certo periodo, poi non se ne è parlato più, è quello del Reasta, vale a dire un coinvolgimento delle persone, lei ha parlato di, ovviamente ci sono anche persone che non sono sprovvedute, che insomma determinano dei costi, magari soltanto, poi non si fanno nulla, insomma dal punto di vista, anzi speriamo sia sempre così, delle conseguenze fisiche, però comporta un loro comportamento in questo caso, e dico sono casi particolari che non vanno generalizzati, di incoscienza anche un rischio per voi e delle spese per la comunità. Ecco, c'era questa legge che insomma poneva a carico appunto di queste persone con poca dimestichezza, anche un disincentivo economico nel caso venissero soccorso. Ma questo è un discorso, allora, l'Italia, questo discorso è affidato alle regioni, ogni singola regione decide cosa fare in merito. Oggettivamente tutte le regioni dell'Arco Alpino, se c'è un intervento in montagna e non è sanitario, fanno pagare degli importi che dipende da regione a regione. Quindi questo è un discorso, diciamo, politico, è la politica che decide se bisogna pagare. Ma in Abruzzo c'era una legge. In Abruzzo c'era una legge che però è rimasta un po' nel cassetto, diciamo, che secondo me tra l'altro andrebbe anche riscritta perché non è riscritta molto bene, però se ne può parlare, io in un certo senso sono anche d'accordo di mettere qualcosa che possa ma più che altro per disincentivare, non per colpire. No, no, assolutamente no, perché noi facciamo i soccorritori, quindi questo per noi è una mission, se vogliamo, siamo volontari e lo facciamo perché ci crediamo. Però se si evita di andare oltre i mille metri in infradito, forse... Sì, forse qualcosa può aiutare chiaramente. Senta, Perilli, c'è un tema relativo alla ricerca dei funghi, perché purtroppo c'è stata una settimana drammatica, lo scorso fine settimana, sulle montagne del Terramano. Ci sono delle problematiche specifiche per questo tipo di attività? Che tipo di consigli vogliamo dare ai cercatori di funghi? Naturalmente ricordate che i cercatori di funghi devono essere quelli che hanno il patentino, che sono certificati, non si può andare per funghi senza essere censiti in qualche modo. Ma andare a funghi è come andare in montagna, è uguale, anche perché si va per boschi e quindi è come fare un'escursione. Soprattutto i funghi normalmente vengono fuori quando è piovuto, c'è umido, quindi il bosco è bagnato, c'è parecchio fogliare bagnato. Quindi la cosa più importante sono le calzature, perché le calzature sono il contatto col terreno, quindi se la calzatura non è adatta, scivolare è facile. Quindi è in più, è vero che purtroppo spesso le funghi stanno in posti strani, quindi bisogna avere la calzatura giusta, un minimo di equipaggiamento, eventualmente avere un telefonino adatto. E poi in Abruzzo abbiamo anche l'antenna recco, l'antenna recco che in caso di dispersi di fungaioli e tutto, con l'acquisto di una semplice piastrina, non è che risolviamo il problema, però sicuramente ci può aiutare a trovare le persone. Quindi massima attenzione anche per i fungaioli e non andare, non esporsi nei posti pericolosi, nei pendigli molto ripidi, soprattutto dopo che è piovuto, perché quando è bagnato il terreno è più infido. Soprattutto aggiungerei a un certo punto prendere le decisioni più sagge, quando si vede un bel fungo che però si trova in un punto su cui non si ha la certezza di raggiungerlo in sicurezza. Ecco, questa forse è la cosa più importante. Ma andare in montagna, andare a funghi, fare escursioni, vale sempre il discorso che facciamo poc'anzi, a parte informarsi sul meteo, perché è importante, ci vuole anche il buon senso e la conoscenza dei nostri limiti, perché lì c'è un altro discorso, tanti fungaioli sono persone che hanno anche un'età abbastanza avanzata, e quindi capire che a una certa età purtroppo qualche limite in più ce l'abbiamo tutti, purtroppo è un percorso della vita, e quindi prestare molta più attenzione. Io veramente sono orgoglioso da Abruzzese del vostro lavoro, perché è un lavoro di grande professionalità, di grande impegno, di grande fatica, di grande sacrificio. Ecco, ma quali sono le prospettive per il futuro, per la stagione invernale, perché poi andiamo appunto in situazioni estreme che cambiano da un giorno all'altro, abbiamo visto persino nel porto di Palermo c'è stata una tempesta perfetta su una sola imbarcazione, quindi è difficile cogliere anche con le previsioni meteo un cambiamento che è repentino e a volte anche imprevedibile. Questo cambia anche la preparazione del vostro personale? Noi ci addestriamo tutto l'anno, in vari periodi dell'anno, e quindi in diverse situazioni meteorologiche del terreno. Sempre più estreme però? Sempre più estreme. Noi facciamo attività, noi mediamente su un anno facciamo almeno 10, 15, 20 esercitazioni delle volte, e quindi con tutto il tempo situazioni meteorologiche diverse, terreno diverso, estivo, invernale, cascate di ghiaccio, sci, valanca, tutto, cinofili tra l'altro, e quindi come dicevo prima questo è anche un costo importante. Ma come si entra? Come si può essere reclutati dal Soccorso Alpino? Attraverso quali canali? Allora, per entrare nel Soccorso Alpino bisogna innanzitutto essere iscritto al Club Alpino Italiano, perché il Soccorso Alpino è una sezione speciale del Club Alpino Italiano, dopodiché bisogna avere al massimo 45 anni di età ed avere alcuni requisiti importanti, che vuol dire che devo saper arrampicare su roccia, sul quarto o quinto grado, saper andare su ghiaccio, quindi piccozza, ramponi, e saper sciare in fuori pista. Ma è un'attività ben retribuita? No, assolutamente no, perché noi siamo volontari e quindi togliamo tanto tempo alle famiglie, per le ferie, al lavoro, tutto quanto. Come dicevo prima, è una mission, è una cosa che facciamo col cuore. Che cos'è per lei la passione per la montagna? La passione per la montagna è una cosa che secondo me non si può neanche descrivere. Oggi ho cominciato ad andare in montagna, che avevo ormai più di 50 anni fa, e ho cominciato per gradi, ho avuto tante esperienze, anche alcune esperienze extraeuropee. è una passione che ce l'hai dentro, ce l'hai dentro, è questa passione che hai dentro, e mi ricordo quando sono entrato al soccorso alpino nel 1978, dove non c'è tutto quello che c'è oggi, se qualcuno era in difficoltà, si partiva, si andava ad aiutare queste persone, pur non avendo niente, quindi con l'attrezzatura personale. Quindi è proprio uno spirito, è una cosa che hai dentro, lo fai perché nessuno te lo obbliga, quindi lo fai verso il prossimo, praticamente è una cosa a cui devi credere, altrimenti non si fa. Grazie, grazie a Daniele Perilli, grazie a tutti gli angeli del soccorso alpino-esperiologico di questa regione, ripeto, di cui noi andiamo orgogliosi, e ai quali pensiamo sempre anche in momenti così difficili come questo, in cui loro verprimi a volte sono quelli che devono dare delle notizie, sono quelli che si accorgono e vedono con i loro occhi le tragedie della montagna. Grazie ancora, arrivederci e appuntamento a domani con Il Fatto.